Grazie a tutti Ma prima di andare a letto mi racconti una fiaba? Ecco, c'era una volta una famiglia La mamma, il babbo e il bambino di 5 anni E l'anziano padre del giovane sposo E l'anziano era vecchio come me E non si poteva muovere bene E quando mangiava gli tremavano le mani E tutta la minestra le andava sui vestiti E quando prendeva il piatto Tante volte lo buttava in terra E lo rompeva La nuora Disperata E nervosa Ha preso il vecchio E l'ha messo a mangiare Vicino al fuoco In una ciotola di legno Le ha detto Tieni Mangia in questa Almeno questa Non me la rompi più Il vecchio Piangendo Con le mani tremanti Mangiava la sua minestra Lì accanto al fuoco Torna a casa Il giovane sposo E vede suo padre mangiando In quelle condizioni E vede anche il figlio di 5 anni Che si lottava con un pezzo di legno E un coltello Provando di fare qualcosa E chiese al suo figlio Caro mio Ma cosa stai facendo? Il bambino Lo guardò E disse Babo Ti faccio una ciotola di legno Così Quando sarai vecchio Avrò in che cosa darti da mangiare In quel momento Il giovane sposo Il figlio del vecchio Si rese conto Che non è giusto Andò da suo padre Lo prese in braccio E disse Babo Perdonami Vieni a mangiare A tavola Con noi Grazie 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 Grazie